Cucinare, che passione! Mangiare bene sano, magari diversificando i piatti oggi è una priorità, ma il tempo a disposizione è sempre meno. Come possiamo fare? Hotpoint ci viene in aiuto con TenChef, la cooking machine che realizza 10 funzioni. Vediamo le caratteristiche principali. 10 funzioni, 15 programmi automatici, delay timer, ricettario in dotazione. Con TenChef sarà come avere in cucina un vero aiutante che si fa in 10 per noi. 10 come il numero di modalità di preparazione offerte da questa cooking machine capaci di semplificarci non poco la vita fra i fornelli. E così con TenChef potremo cuocere, cuocere al vapore, bollire, sminuzzare, mescolare, emulsionare, frullare, tritare il ghiaccio, miscelare e impastare torte. 10 apparecchi in uno per ottenere portate sempre perfette in pochissimo tempo. TenChef è composto da una base con display e manopola che consente la selezione rapida dei tempi, delle temperature e delle velocità in base alle proprie esigenze. Da un recipiente in acciaio inox da 1,5 litri che permette di ottenere fino a 6 porzioni e da un coperchio con foro e tappo dosatore. Nella confezione sono presenti anche la pala mescolatrice, due lame in acciaio inox, il cestello vapore, una spatola per mescolare gli ingredienti. Non manca inoltre il comodo ricettario con tante idee per sfruttare al meglio il nostro TenChef. 15 sono i programmi automatici preimpostati di cottura. Niente di più facile per ottenere il miglior risultato senza dover pensare ai tempi e alle indicazioni per la cottura. Grazie al delay timer potremo impostare la partenza ritardata abbinata ai programmi per gestire al meglio e in tutta sicurezza le nostre pietanze. Hotpoint Cooking Machine TenChef, un vero cuoco al tuo servizio. Buon appetito! Grazie! Grazie a tutti!